Ciao amici e benvenuti in questo mio nuovissimo video, sono il vostro Luca, ci siamo qua in questo nuovo video unboxing Oggi ragazzi andiamo ad unboxare uno strumento che evoluzionerà la qualità del mio canale Almeno per ora, ragazzi quello è il Samsung Meteor Mic Ebbene ragazzi ho fatto questo salto di qualità e ho acquistato questo microfono con un po' di risparmi con un po' di sacrifici che ho fatto E niente andiamo a provare, però prima dobbiamo vedere come si presenta il pacchetto eh Allora io qua non so come cazzo vi devo far vedere ora, tipo così Bene, questo è il nostro pacchetto del Samsung Meteor Mic Io lo apriamo, quello scotch dei lati già l'ho tolto Se solo ti aprissi mi facessi un piacere Mi facessi un piacere ragazzi, l'italiano, l'italiano Eh ragazzi lo so, è una cosa che succede un po' a tutti, ogni tanto ci partono i verbi mongolotti Oh 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 ragazzi Ebbene si, si presenta così il nostro bellissimo microfono Con l'apertura che avete visto E questo ragazzi è il microfono Molto piccolo Guardate, sta nella mia mano Però devo dire che è una potenza davvero grande, ora sentirete Quindi ragazzi non vi sto a dire tutte le qualità che ha perché sono sicuro che lo saprete voi E niente ragazzi ora passiamo alla prova audio E niente ragazzi questa è quella che sarà la qualità audio che sentirete da oggi in poi Spero che si senta bene, io ancora non lo so ma immagino che sia bestiale E niente ragazzi superiamo un sacco di mi piace perché ragazzi ci vuole cazzo Ci vuole, ci vuole per questo microfono E niente, ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti